Buongiorno a tutti, ciao ragazzi, come state? Allora, le pagelle dovevano arrivare, ma non potranno arrivare in questo momento, in questo istante, perché c'è da parlare di altro. Poi entro sera parleremo sicuramente delle pagelle, ma già ieri notte vi dicevo che la giornata di oggi poteva nascondere alcuni momenti un po' così, e dobbiamo cercare di ricostruire le varie situazioni e tutto quello che è accaduto ieri sera, perché subito dopo avervi postato su YouTube il video chi era sveglio ieri notte o chi era recuperato stamattina avrà visto che avevo pinnato in alto un commento, era un commento in cui vi raccontavo che era successo qualcosa di sgradevole, mi erano arrivati due messaggi nella nottata di ieri da parte di due persone diverse, di due posti diversi, quindi non erano insieme, non erano nello stesso posto, non erano in contatto, ma entrambe andavano in una direzione e andavano nella stessa direzione, e cioè che fosse accaduto qualcosa appunto disgradevole tra Allegri e un determinato giornalista e cioè il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago, a cui mando un abbraccio, ci siamo già sentiti anche pubblicamente su X, adesso andremo a ricostruire un po' il tutto, da parte di Allegri una sorta di aggressione. Ieri sera si diceva fisica, oggi Vaciago ci tiene a fare sapere quella che è stata la verità e sottolinea come sia stata molto più verbale e semifisica, comunque adesso andremo a leggere un pochettino il tutto, tra l'altro mi dicevano che c'erano anche altri dettagli e altre persone coinvolte, io ovviamente non ero presente, non ho la verità in tasca, posso soltanto attenermi a quelle che sono le ricostruzioni dei presenti e quindi adesso andiamo a leggere quella che è stata la spiegazione di Vaciago, uscita su Tutto Sport letteralmente 5 minuti fa, 5 minuti fa, io stavo scrivendo le pagelle, ero pronto per registrare le pagelle e poi invece è arrivata questa cosa, quindi andiamo immediatamente a ricostruire, perché Fabio Ravezzani scrive E io scrivo, solidarietà a Guido Vaciago, verranno ricostruiti i fatti, ma l'aggressione fisica penso vada condannata sempre, curioso di leggere come finirà. E mi ha risposto Guido dicendo, grazie Luca, niente di selvaggio però è neanche troppo fisico, cerchiamo almeno noi di mantenere la calma, Sgradevole l'episodio di maleducazione, qui la mia riflessione Ok, quindi è stato bravissimo, bravissimo Vaciago e voglio fare veramente i complimenti a Vaciago per aver cercato di mantenere questa calma, questa tranquillità e adesso andiamo a leggere quello che ha scritto poi su Tutto Sport versione online e cioè Allegri vince la Coppa e perde la testa. Cos'è successo ieri sera all'Olimpico dopo la finale di Coppa Italia quando Allegri ha avuto parecchi momenti di nervosismo e ha aggredito il nostro direttore. Stiamo parlando di cose veramente pesanti, questo è il video di Vaciago subito dopo la conquista della Coppa Italia da parte della Juventus, la pubblicità cerchiamo di nasconderla. Allegri vince la Coppa e perde la testa, cronaca di una serata di ordinaria follia nel ventre dell'Olimpico che lentamente si sta svuotando mentre l'Olimpico giustamente festeggia ballando nello spogliatoio e il suo allenatore sfoga tutta la sua rabbia per i corridori dello stadio e questi tua festa per la finale. Ed è proprio nel corridoio che corre lungo l'enorme sala stampa che ho, diciamo, incrociato Allegri prima che diventi caso con conseguenti distorsioni social offro il mio racconto dello sgradevole accaduto. Poi andiamo giù, ok? Abbiamo evitato la pubblicità che poteva essere un po' un problema. Infatti, Allegri evidentemente alterato si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale ma evidentemente non troppo serena. La conferenza stampa ma ha trovato qualche minuto per me. Direttore di merda Sì, tu, direttore di merda scrivi la verità sul tuo giornale non quello che ti dice la società smettila di fare le marchette con la società a un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il naso ha gridato Guarda che so dove venire a prenderti so dove aspettarti vengo e ti strappo tutte e due le orecchie vengo e ti picchio sul muso scrivi la verità sul giornale e altre aminità del repertorio della rissa da bar. Intanto Gabriella Ravizzotti dell'ufficio stampa della Leventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa. Tutto qua spiace per chi si aspettava qualcosa di più cruento e spiace per la maleducazione di chi soprattutto in pubblico dovrebbe tenere altro contenio. La riflessione di tutta la vicenda che di per sé non dovrebbe diventare notizia resta il dubbio di quale sia la fantomatica verità di Allegri perché se la conoscessimo ci faremmo volentieri due pagine e resta purtroppo l'atteggiamento minaccioso dell'allenatore della Juventus nei confronti di un giornalista. Nel confronto ci può stare a tutto perfino l'insulto al limite ma la minaccia no. La minaccia è vile intimidatoria eppure pericolosa in un mondo dove la possibilità che qualcuno si prenda la briga di metterla in pratica rischi sempre di trovarlo. Allegri riserà evidentemente stappato una rabbia che da mesi ribolliva in lui è un essere umano e può capitare ma è anche l'allenatore della Juventus e dovrebbe capitare un po' meno. Visto che nella sua tumultuosa serata romana ha insultato l'arbitro ha aggredito il quarto uomo e dopo partita ha aggredito Rocchi a 24 ore dall'incontro col presidente Mattarella che nell'accogliere squadre della finale si era identificato proprio con gli arbitri e ancora si è fatto pizzicare delle telecamere mentre invitava giuntoli ed andarsene proprio poco prima della premiazione. Insomma ha vinto la coppa e ha perso il controllo rovinando la festa e imbarazzando non poco la sua società e si è immediatamente e molto premurosamente scusata il cui aplomb è assai diverso. La verità noi di tutto sport l'abbiamo sempre scritta e la scriveremo sempre insieme alle nostre opinioni che possono piacere o non piacere esattamente come il gioco di Allegri ma restano tali e le esprimiamo con educazione senza spintoni e restando aperti al dialogo con chiunque voglia contraddirle con educazione e senza spintoni ovviamente. Io faccio un grosso grossissimo applauso al modo in cui Guido Vacciago ha deciso di gestire il tutto perché qui non stiamo più parlando di calcio qui non stiamo più parlando di meriti di demeriti di coppe di formazioni di trofei qui stiamo parlando di un allenatore della Juventus che ha aggredito e minacciato un giornalista e secondo la ricostruzione di Vacciago non è stato l'unico poi verranno fuori nomi e cognomi di chi è coinvolto in questa roba qui ma intanto Vacciago che tende a evidenziare come ci sia stata molto meno violenza di come si era parlato inizialmente e questa cosa mi fa piacere perché la violenza fisica non deve esistere ci sono stati degli spintoni ci sono stati degli strattonamenti soprattutto delle minacce cose che sono condannabilissime anzi devono essere condannate queste cose qui perché far passare sotto traccia questa roba diventa molto grave si apre un dibattito un discorso molto interessante ragazzi che è legato purtroppo alla libertà di stampa in Italia tante volte quest'anno vi ho spiegato come più che di Allegri io sia stanco di quelli che scrivono per Allegri e su Allegri dei vari Corrieri dello Sport dei vari sabatini che cercano in ogni modo di portare acqua no ragazzi non deve essere l'allenatore della Juventus che controlla l'opinione non deve essere l'allenatore della Juventus che non gradisce quello che viene scritto su un giornale che accusa il direttore di un giornale di scrivere delle cose che non corrispondono una verità queste cose non esistono queste cose non esistono cioè l'allenatore della Juventus allena la Juventus non mette bocca né nell'ambito dirigenziale non mette bocca nell'ambito economico non mette bocca nel lavoro che fanno i giornalisti questa roba non esiste è una cosa che non può esistere a maggior ragione in una serata in cui la Juventus aveva vinto una coppa e giustamente doveva festeggiare Allegri i titoli di coda lo sappiamo ma è il primo è il primo allenatore nella storia del calcio che viene esonerato che viene allontanato è il primo caso nella storia no assolutamente no e allora bisogna semplicemente accettarlo fa parte del gioco è una cosa che fa parte del gioco io capisco che Allegri tenga la Juventus e l'ho visto anche ieri sera nella protesta che come vi dicevo per me è pure giusta quell'ultimo balletto di Allegri con l'ultima giacca lanciata cravatta tolta protesta nei confronti dell'arbitro per me è giusta al netto di un arbitraggio veramente di basso livello allontanare giuntoli no non lo è non è stata una bella cosa le tante frecciatine che quest'anno Allegri tramite il suo agente tramite giornalisti amici o tramite le sue stesse conferenze stampe che sono state tirate alla società non sono cosa buona e giusta non è una cosa buona e giusta mi dispiace che finisca così perché qui si sta chiudendo davvero nel peggiore dei modi non si parla nemmeno più di come posso dire di valutazioni sportive qui si parla di valutazioni di una persona che probabilmente non accetta che gli altri possono avere un'idea su di lui negativa questo è il vero problema questa secondo me è la vera sconfitta e la vera brutta figura per Allegri perché si poteva scegliere il modo in cui uscire dalla Juventus e questo rischia di diventare un modo addirittura per quanto mi riguarda un licenziamento per giusta causa perché l'aggressione nei confronti di un giornalista da parte della natura della Juventus io credo che sia un fatto molto grave e credo che in questi istanti dentro la Juventus stiano discutendo per questa cosa qui i dirigenti della Juve non credo che possano lasciare passare una cosa di questo tipo stiamo parlando di una cosa veramente grave e ripeto faccio ancora i complimenti a Guido Vacciago di Tutto Sport per la maniera in cui ha gestito questa situazione in cui ha cercato di calmare i toni ma di condannare l'episodio perché è un episodio grave se non gravissimo mi sarebbe piaciuto parlare delle pagelle oggi sono sincero invece dobbiamo parlare di queste cose qui fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e perdonatemi se ieri notte sono stato un po' sibillino e vi ho detto semplicemente è successo qualcosa ma è ovvio che senza essere lì senza aver visto senza aver vissuto quella situazione uno non è che può scrivere Allegri ha aggredito Vacciago punto poi metti che non corrisponde al vero è molto più logico aspettare che ci siano delle conferme delle ricostruzioni e sono contento di averlo fatto e di aver avuto il punto rivista di Vacciago sarebbe necessario anche il punto di vista di Allegri perché comunque domenica Allegri parla in conferenza stampa pre-Bologna in teoria e ci saranno anche giornalisti di tutto sport quindi io ho un comunicato da parte della Juve in un verso o nell'altro me lo aspetto me lo aspetto e secondo me è soltanto questione di ore fatemi sapere la vostra e forza Juve grazie a tutti grazie a tutti